Ufficio scolastico regionale per la Calabria, ambito territoriale di Cosenza. Volevo parlare con la dirigente, con qualcuno. La sette, non è l'arena, grazie. Sì, un minuto è che io. Ma ci riceverà, no? Penso di sì. Siamo arrivati sotto l'ufficio scolastico provinciale. Questi dirigenti devono smettere di fare le pinte manager. Iniziate la cuda e l'altro. Hanno chiuso proprio con le sbarre qua. Proviamo all'altro ingresso. Buongiorno. Aspettavamo di parlare con la dirigente. E' tutto che lo mandiamo. Non è fatto da nessuno. Ma c'è qualcuno che ci parla o no? No, non c'è nessuno. Quindi... Dobbiamo andare fuori. Purtroppo sì, abbiamo l'ordine per... Stamattina sono stati qua sotto gli studenti. Non so se loro sono riusciti poi a salire e avere un'interlocuzione. Sì, loro sì. Noi però abbiamo avuto solo porze in faccia per ora. Evidentemente non si sa cosa dire. Ci sono delle responsabilità, quindi è giusto che qualcuno capisca quello che è successo. Buongiorno. Io sono qua sotto da stamattina che aspettavo... Sì, la dirigente non ha al momento dichiarazioni da fare. Quindi la dirigente dell'ufficio scolastico regionale di Cosenza non vuole parlare. Pronto? Al momento non ha... Come si dice... Ce l'ha lì davanti, mi faccia capire, non può parlare. No, 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 no. Va bene. Eh... Magari ci agiremo più tardi. Se ci dedica un secondo andiamo via. Ci vanno a portare il pranzo dentro addirittura. Qua proprio non vogliono uscire. Ma sono andati via tutti. Ci sarà qualcuno che ci parlerà mai dell'ufficio. Si deve parlare con i dirigenti. Ma la preside aveva fatto le segnalazioni agli uffici? Non sono a conoscenza di queste particolari, sinceramente. Ma ci dice qualcosa, quantomeno per capire cosa è successo nell'ufficio scolastico regionale. Posso dirle? Ma quanti ne avrei portati di pranzi oggi? Un po' cosa mi voleva chiedere, ma non ho niente da dirle perché non mi occupo di questo. Ma secondo lei perché la dirigente non ci vuole incontrare? Eh, come... ma io non ho idea. Che sono i caffè posto pranzo questi? Ah, se ne va pure lei, ci lascia pure lei. Ma ci riceverà, no? Penso di sì.